Cosa pensate voi della zona russa? Funziona, non funziona? I casi stanno anche di poco aumentando in questo momento, si interessa la radio stamattina, perché purtroppo molti non mettono la mascherina, le distanze non ci sono, quindi queste sono le cose. Alcune persone hanno detto che però in alcune fasce orarie comunque sono diminuiti gli assembramenti, le persone in circolo in città. Vabbè, perché non escono le persone, però se escono, escono male. Senza mascherina in macchina, quindi non ci sono controlli, non c'è niente. E allora se non ci sono controlli la gente se ne frega della zona rossa, quindi non ci sarà mai. Esiste qua, perché tu vedi che c'è la zona rossa? La zona rossa non c'è. Alcune persone hanno detto sì, potrebbe servire se ci fossero dei controlli sul territorio. Esatto, su questo territorio non ci sono controlli, stiamo per la strada e nessuno mangia a me con voi, mai. Uno, due. Tutto ci vogliono i controlli. Ci vogliono più controlli, sicuramente nelle feste di Natale. Non ci sono proprio controlli. I negozi devono riaprire perché l'economia si deve muovere un po', però ci vogliono più controlli. Anche i militari fanno bene lo stesso. Accettiamo tutto. Cosa ne pensate della zona rossa? Cosa ne pensate? Che non ci pensano? È utile, non è utile. Comunque le persone stanno prestate. Chi le stanno rubando, figlia mia? Che mi faccio? Noi ci parliamo della zona rossa, sul Zerbanese. Serve solo la civiltà del popolo italiano.